Ciao ragazzi, beh, è sempre bene ricordare questa cosa. Un fotografo è completo, permettetemi virgolette, solo se segue il processo creativo lungo tutto il suo percorso, dallo scatto alla post-produzione fino alla stampa. Eh no, caro mio, la vera fotografia è quella senza fotoritocco. Ecco, è arrivato il berengo-gardin di turno. Eh, non c'è bisogno mica di scomodare il giorno nazionale. La post-produzione distorce la realtà, mentre la fotografia dovrebbe raccontare la realtà senza filtri. Eh no, ti sbagli. Già la scelta della focale e del punto di ripresa è un'interpretazione, interpretazione che cambia il modo di raccontare il soggetto. Sì, vabbè, ma una cosa è fare una scelta ponderata, e un'altra è fare clic a cassaccio davanti al computer. E invece no, ti sbagli anche in questo caso, perché lavorando a cassaccio si ottengono solo risultati casuali, mentre soltanto con la piena consapevolezza del proprio flusso di lavoro si raggiunge quello che è il risultato che volevamo ottenere. Ah, secondo me basta un'intelligenza artificiale per fare foto migliori. Ormai i fotografi sono inutili. Ah sì? Beh allora facciamo una cosa, vediamo chi riesce a fare meglio, tra un fotografo professionista come Francisco Francia, un'intelligenza artificiale come quella di Luminar Eye, oppure il sottoscritto con un vecchissimo Photoshop CS6. Bella sfida, eh? Sì, lo so, faccio un effettaccio quando faccio il finto snob, ma tornando a noi, forse alcuni di voi hanno il dubbio di chiedersi ma chi è Francisco Francia e cos'è Luminar Eye? Beh insomma, se siete dentro la fotografia non dovreste avere di questi dubbi, ma per fugare ogni incertezza vi dico che Francisco Francia è un fotografo pubblicitario che collabora, ha collaborato con marchi come Nikon, Helinchrom e Playboy, che ha firmato tantissimi editoriali di fotografia, che ha firmato tantissime copertine di rivista e che tra l'altro in questi giorni trovate anche ridicola con la linea must di fotografia. Mentre Luminar Eye è né più né meno che un software di post-produzione di fotoritocco, potrebbe essere quindi un software di camera chiara come l'Artroom, Capture One e via dicendo. Però questo prodotto della Skylum mette quella AI che sta per intelligenza artificiale. Un'intelligenza artificiale che analizza i nostri scatti e cerca di capire se è un retratto, se è un paesaggio, se è un architettura, ma soprattutto riesce a capire le varie parti dell'immagine, se c'è una figura umana, se c'è un cielo, se c'è una montagna, se c'è dell'acqua. E quindi ogni tipo di ritocco può essere fatto in maniera selettiva in base all'aria. Ma andiamo per ordine vedendo qual è la sua interfaccia. Eccoci, siamo nel catalogo di Luminar Eye dove ho già importato due immagini, entrambi fornite da Francesco Francia, che giustamente ringrazio perché ultimamente tra il terramoto che ha registrato inagibile la mia sala posa e la pandemia, insomma la mia attività di ritrattista è molto rallentata e ho bisogno di due immagini adatte a sperimentare. Prima di andare a vedere la foto della bellissima Virginia Ciucci, su cui è stata incentrata la sfida, voglio mostrarvi questa foto invece che è una foto di Ilenia Skulko. Vi ricordo che gli Instagram delle modelle che vedete in questo video trovate i link al loro Instagram qui sotto in descrizione. Scelta questa immagine che mi interessa perché effettivamente è un'immagine ricca. C'è un soggetto, c'è dell'acqua, ci sono delle montagne, c'è del cielo. Foto con un contrasto un po' strana ma vi dico che comunque Francesco Francia l'ha già pensata e realizzata per farla in bianco e nero, quindi quel cielo così vuoto ha il suo perché. Comunque una volta entrati su modelli vi faccio vedere che per questa foto ci sono tutta una serie di suggerimenti sperimentale, monocromatica, ritratti semplici, cinematiche, su misura. Tutti questi modelli ovviamente poi possiamo acquistarne altri e aggiungerli a nostro piacimento. Andiamo a prendere, non lo so, la parte quello del monocromatico, andiamo a prendere, non lo so, un'opacità elegante e vedete che in un clic abbiamo subito ottenuto un risultato piacevole, è un buon bianco e nero. Ma per farvi vedere una cosa ancora più interessante, se andiamo a prendere tramonti, scegliamo un po' il modello toscana, esbabum. In un solo clic vedete il cielo è diventato un cielo con delle nuvole, ci sono dei riflessi, riflessi che giustamente rispettano quello che è la superficie dell'acqua, la banchina di legno bagnata e le nuvole vedete come seguono il soggetto. Guardate la differenza, prima, dopo. Davvero incredibile. Ma non solo, andiamo a ingrandire, se vediamo questo effetto un po' deformato purtroppo è normale. C'è a dire che Luminar Eye è assolutamente affamato, ingordo, insaziabile di risorse hardware per far funzionare la sua intelligenza artificiale. La mia postazione a lavoro, che è un i7 con 32 GB di RAM, comunque la singola modifica, anche semplicemente uno zoom, si porta via spesso quei 10 secondi abbondanti. Ecco qui, e guardate con quanta precisione è stato scontornato il soggetto. Anche su elementi molto difficili possono essere i capelli, il partiorissimo cappello o il giubbettino che porta. Per fare la stessa cosa utilizzando tavoletta grafica e stilo, uno dovete saperli utilizzare due di tempo, ce ne vuole assolutamente un voto. Ovvio che tutto questo che abbiamo visto posso andarlo poi a rifinire come voglio io, andando a gestire le singole modifiche. Ma torniamo sul catalogo e andiamo a vedere poi l'oggetto della sfida. Quindi riapriamo la foto, riguardo in questo caso la modella Virginia Ciucci. Andiamo a vedere le modifiche, e ne ho fatte davvero tante. Ma voglio dirvi questo, in un primo momento, utilizzato praticamente il modello Rembrandt, vi faccio vedere il RAW grezzo e il Rembrandt al primo click. Prima di andare a fare poi tutte le mie modifiche, vi rendete conto che quel risultato l'ho ottenuto soltanto con un click. Davvero impressionante. Ma vi dicevo, qui accanto vediamo tutti gli strumenti, quelli evidenziati da un pallino sono quelli in cui sono stato io a intervenire. Quelli con AI sono quelli poi assistiti dall'intelligenza artificiale. Vi dico subito che un problema c'è perché la composizione, quindi il classico strumento di ritaglio, ci permette di stringere ma non di allargare. E vi farò vedere dopo sui confronti, avrei voluto allargare l'inquadratura, purtroppo non ci sono riuscito. Alcuni elementi, pur essendoci l'intelligenza artificiale, comunque richiedono un intervento manuale. Qui ad esempio c'era un pezzo di softbox sul lato sinistro dell'immagine e ha dovuto rimuoverlo con cancella. Lo stesso una cicatrice che era rimasta sul volto. Lo stesso i capelli non proprio perfettamente gestiti dall'acconciatura sono andati a toglierli con il timbro clone. Quindi ricordiamo ragazzi, sì c'è una parte di intelligenza artificiale, ma c'è una parte tradizionale in cui insomma serve la manina. Ma quello che voglio farvi vedere di particolare è quando andiamo sul ritratto. Vedete che ci sono delle sezioni distinte, le sezioni creative per gestire il cielo, l'atmosfera. Quello del ritratto va a gestire le parti del corpo. Cioè noi vediamo che il viso, notate la scritta I, ci sono alcune parti che vengono ritagliate, distinte, su cui possiamo intervenire in maniera selettiva. Io ho voluto rendere più evidente l'iride, vedete questi due valori spostati, e l'intervento è soltanto esclusamente sull'iride. Io sono andato a rimuovere, rimozione dei difetti della pelle, lo fa in maniera intelligente, quindi rimuove i difetti dalla pelle del corpo, non male, dalla pelle dei pantaloni che sta indossando. Sul corpo, qui la Virginia non ne ha bisogno, ma se avessi voluto snellire le forme, potevo farlo, avrei intervenuto, sarei intervenuto soltanto sull'addome, non magari deformando senza volere le braccia o altre cose. Quindi è una serie di strumenti sia automatici, quelli che hai, sia quelli manuali. Ovviamente abbiamo anche a disposizione il bilanciamento del bianco, possiamo fare assolutamente tutto. E quindi è arrivato il momento di fare una bella sfida, perché in realtà abbiamo di fronte tre interpretazioni. Vediamole. Ed eccole infatti qui tre affiancate le tre versioni della Virginia. Abbiamo a destra la versione quella di Francesco Francia, in bianco e nero, al centro quella che ho ottenuto lavorando su Lumir Eye, e a sinistra quella invece che ho ottenuto lavorando sul mio vecchissimo Photoshop CS6. Cioè a dire che quindi in realtà ad interpretare si sono tre interpretazioni differenti, mi raccomando ditemi nei commenti qui sotto quale delle tre vi piace di più, ma effettivamente gli interpreti siamo comunque io e Francesco Francia. Ricordando che comunque il ruolo più importante è quello di chi fa la foto, perché Francesco Francia ovviamente sapendo qual era il risultato a cui voleva arrivare, ha fatto alcune scelte in fase di scatto, che possono essere scelte di sfondo, di illuminazione, di ottica, ma anche di abbigliamento, acconciatura, make-up, che sono scelte unicamente sue. Io ho potuto soltanto intervenire con due strumenti, appunto Lumir Eye e Photoshop CS6, per dargli un impatto visivo differente. Ma andiamo avanti a vedere che una differenza c'è stata in maniera netta, ovvero Francesco ha fatto un taglio stretto con il gomito della manella molto vicino al bordo dell'immagine, una cosa che ad essere manieristi sarebbe meglio evitare. L'evento essere manieristi della fotografia è anche essere un po' noiosi e penso che Francesco se ne frega altamente. Soltanto che io effettivamente ho voluto allargare, infatti vedete che nella mia interpretazione, quella all'estrema sinistra, ho allargato l'inquadratura. Purtroppo, l'ho già detto, su Lumir Eye questo non è possibile, dobbiamo passare tramite un altro software per allargare quella che è l'inquadratura. Ma è più interessante andare a stringere su un primo piano, avete visto in copertina. E vedete che sì, partendo dallo stesso soggetto, dalla stessa foto, dallo stesso RAW, abbiamo tre impatti differenti. A questo, amare, ditemelo anche voi nei commenti che è molto interessante come reagite a queste tre versioni. A me quella in bianco e nero di Francesco è quella che mi dà un impatto più rilassante. Cioè davvero il bianco e nero va ad iniziare l'essere statuario di questa modella. Quella invece su Lumir Eye ho creato un effetto più sensuale, più glamour effettivamente, se vogliamo. Mentre quella fatta tramite Photoshop e CS6 è voluto esagerare un po'. Ho cercato anche un effetto, una color correction che fosse incentrato tutto sugli occhi della modella e su questi occhi ruota tutto il resto. Quindi tone differenti, più intriganti, più da cinema se vogliamo. E quindi avete tre sensazioni. Una davvero statuaria, una glamour e una invece da cinema. Ditevi anche voi se vi trovate in queste tre sensazioni. Andiamo a stringere ancora di più proprio sul volto e qui sono evidenti i risultati. Risultati ottimi con tutti e tre. Insomma, Francesco ha fatto il suo lavoro, indubbiamente. Lumir Eye ha fatto anche lui un ottimo lavoro e anche io penso che con Photoshop e CS6 ho portato a casa il risultato. E questo deve farvi capire una cosa davvero fondamentale. Allora, Lumir Eye è potentissimo. Vedete come si mangia le risorse del mio computer. Ed è potentissimo soprattutto agli inizi perché ci dà una mano ad arrivare subito a un ottimo punto di partenza. Giocando con i modelli è facile riuscire a ottenere subito il risultato che è buono, non perfetto, ma buono. Ovviamente, come tutti i software, se vogliamo arrivare al 100% di risultato, dobbiamo studiare. Quindi Lumir Eye ci porta subito a una foto, diciamo, all'80%. Per arrivare al 100% dobbiamo metterci lì e studiare e capire tutti i suoi strumenti. Anche lì dobbiamo capire cosa serve, come utilizzare bene lo strumento per cancellare, come funziona, come sfruttare bene lo strumento clone e come regolare tutte le opzioni. Quindi anche lì serve un periodo di apprendimento, ma la potenza, ragazzi, c'è. Perché vi dicevo prima, la tauletta grafica è un oggetto che, dicono ai miei studenti, ci vuole tempo per impararla, ci vuole tempo per digerirla. Le prime dieci ore qui sopra è odio allo stato puro. Quindi se non abbiamo delle foto complesse, con più piani, il piano del soggetto, il piano dello sfondo, degli alberi, e vogliamo fare un ritocco selettivo, sono dolori. Su qualsiasi programma fotoritocco, non sulluminerai, perché la scelta di dove intervenire lo fa lui tramite l'intelligenza artificiale. Ma se vogliamo arrivare fino in fondo, se vogliamo arrivare all'interpretazione, sta sempre a noi. E questo era anche il giochino, la provocazione all'inizio. I fotografi sono inutili? No. Perché comunque il fotografo deve essere padrone di tutto il flusso di lavoro. Dall'inizio, dicevamo quindi, trucco, acconciatura, scelta dell'abbiamento, scelta della location, scelta di illuminazione, scelta della focale, fino alla fase finale, che è la post-produzione. E il fotografo capace, deve tenere il controllo su tutto il flusso. Dall'inizio fino alla fine, senza dimenticare, che alla fine c'è la stampa. E per concludere, in bellezza, c'è un regalino, ino, ino, per voi. Avete capito, questo video è in collaborazione con Luminar Eye. Luminar Eye costa 79 euro, ma con il link, qui sotto, in descrizione, ve lo potete portare a casa, a 69 euro. Che se pensate, c'è una cosa. Luminar Eye, lo comprate una volta, e resta vostro. Quindi non avete un canone abbonamento, come i prodotti di Adobe. E se pensate che Lightroom, costa 10 euro al mese, insomma, in 7 mesi, ve lo siete ripagato, e resta vostro a vita. Spero che questo video, che fa parte di un terzetto di video, che servono per ragionare, su alcuni, fasi del lavoro, del fotografo, vi piacciono, vi rimando infatti, qui sopra, quello precedente, e per il prossimo, mi raccomando, iscritti e campanellina. Ciao a tutti, e al prossimo video.